Nina, amore mio, come stai? Io sto scrivendo tanto, sai? Sto scrivendo tanto e bene. Venezia è perfetta per scrivere. Infatti ho quasi terminato. E vedrai che questo finisce dritto al numero uno delle classifiche anche senza che tempo vi fa. Quando torni? Eh, torno presto, amore, ma non subito, eh. Ho bisogno ancora di un po' di tempo. Capisco. Ma lo sai che sono sceso all'hotel Baglioni? Lo stesso dove siamo stati in viaggio di nozze. Lo vedi che ti penso sempre. Senti, domani ci sono da consegnare le chiavi della villa. Non è che c'è Andressi te? E come faccio, amore mio? Qui c'è l'acqua alta, il traghetto, il treno, i turisti. È un casino, amore, guarda. Mi sembra veramente impossibile, mi spiace. Non ti preoccupare. Ciao, amore mio. Ciao. Ciao, 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 ciao. Chi di voi è Moana e chi è Luana? Renato, cambia!